No, neanche uno ce ne sta. Niente di dietro, davanti, niente. Vai dentro l'aereo. Questo devo fare. Vai dentro l'aereo. Si è già fatto. Aspetta tu. Head down. Noi sono dentro l'aereo. Speriamo che non lo fanno scoppiare. No. Voi sono dentro l'aereo. Speriamo che non lo fanno scoppiare. e per portarlo tu io per per levarmi che devo fare ma con la peccetta ok 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 Tu non sai cosa stai facendo! Stop! 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 Tu sei il più idioti di tutto il mondo! americani Questo è un grande errore! Come la crappia in pente! Stupendo! Stupendo! Si! Come va la... la... c'è la... Una linea blu... E' bianca! Come va? E' sta ancora al massimo! Ok, buono buono! No però io sto dentro... dentro l'aereo! Però minchia! Mi stanno prendendo al momento! Ok, ho finito e cattolto! Se i miei bigliano ma sparano! Prendi, perciò... E' un minuto! E' un minuto! Guarda... E' sembra molto come... L'alto del pezzo! E' stai in un pezzo... E' in una palla con il petto di c***o! Guarda, guarda... E' come ti diceva? E' qui per aiutare! Non c'è! E' il mio popolo! Udruvi! Udruvi! Udruvi tutto il che vuoi! Ma... Stop! Escucha... 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 Udruvi... 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 Se algoritavi... Vedi... Insecure-little egomania... Pagli Dio... Se il corpo di dottore... Un sacerdotile ma retraito... Un sacerdotile... Un sacerdotile... Un sacerdote... Un sacerdotile... Un sacerdote... Com'è? Gli hai più di metale. E' quasi tutto bianco però. L'inche hanno preso l'aereo però come è sano. Com'è chi va? Com'è chi va? Com'è chi va? Credo che devi andare fuori da qui. Scuba Gear by Hatch over there. Ho un escapamento secreto. Buona notte! Bello, come? No, non l'è cosa! E' l'euro, n'è? No! No, siamo nell'arena. Sono all'angolo. Ok, io sono DDA Bene, aspettate che... Non posso dire! Si sembra che sono all'inibili all'inibili nel network di neural. Abbiamo un battalion di ciborgi clone warriors in un superbrain, cercando di uscire! Non mi piace questo! Molto! Molto! Il network di IAA è down. È Clifford! È stato fatto! Do you know cosa può fare con il network di IAA? È quello che può fare! Non lo so, robbing banks. Oh, quando si è stato ammazzato Oh, quando si è stato ammazzato Già l'ho ammazzato Ok, ti vedo! Aspetta che non lo vedo Minchia, guarda facciamo duro! Ho visto? You've ever had a neural network try and kill you before? Uh-huh-huh. Yeah me, ne the future! Welcome to the future. Get on the turrets and try to control it in the world. Noi ma ho. Che risolato E quando è così devi andare nel volume giallo? Si Ok 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 No, le gusta molto a questo No è la unica che uno può cancellare il volume, la può fare di nuovo se io non cacero l'iovo super, mi riesco a riuscire deve cominciare in capo, un po' di protezione e cose se io non cacero l'iovo super, mi riesco a riuscire è una specie di trucco per i milioni per i amici a mia non mi tocca nada non mi tocca i non cacero l'iovo, la mia se eleva ma la cuba te la dan no no cacero io se perché è stato il centro operazione mobile no poteva duplicare el problema Si, hai fatto un po' di qua, non c'è? Si 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 Grazie a tutti.